Sportivamente parlando possiamo chiamarlo furto, perché questa Juventus non merita, non solo di averla vinta, ma non meritava forse neanche di pareggiarla. Il problema è che se non la butti dentro difficilmente queste gare le pareggi o addirittura le provi a vincere. Il pallone non va, il pallone non riesce a entrare, se Kvara al fine del primo tempo, anzi a metà del primo tempo, butta dentro quel passaggio di Osimène che lo mette solo davanti a Cesni, io credo che saremo a parlare di tutt'altro. La Juve la conosciamo, gioca così, fa un gol, errore grave ancora una volta della difesa, racmani su tutti, ma c'è anche Di Lorenzo, c'è anche Meretto. Poi dopo la partita è finita, perché praticamente il Napoli, un po' per le condizioni fisiche non al meglio, un po' perché la Juve dopo il gol si è chiusa e ha cominciato a perdere tempo al 53esimo, tutto diventa più difficile. Il Napoli nel primo tempo l'ha dominata, Juan Jesus a fine primo tempo dice a Dazon abbiamo in mano la partita, loro lo sanno, la squadra lo sa, che il Napoli meritava di essere almeno in vantaggio contro i bianconieri a fine dei primi 45 minuti e invece 0-0 con l'errore di Di Lorenzo che aveva fatto un bel tiro, Cesni l'aveva presa praticamente sulla linea e poi non si è capito ancora con Di Lorenzo che davanti a Cesni poi è stato chiamato uno strano fuorigioco, che non abbiamo capito, non abbiamo visto un replay, non abbiamo visto nulla di quell'azione. Comunque Cesni l'aveva parata e quindi c'è poco da fare. Quando subisci poi un gol del genere e non riesci a ripartire mai, perché questo è il problema, perché entra Elmas, entra Raspadori e sbaglia tutto, mister avrei fatto entrare un po' prima sia Raspadori che Simeone, ti dico la verità, e soprattutto se hai un Quara demoralizzato forse da quell'errore, demoralizzato da un cartellino giallo assurdo e poi la facciamo una parentesi per Orsato che è arbitrato bene, ma in maniera scientifica come al solito, è chiaro che poi le azioni non arrivano. Il gol era arrivato pure, però abbiamo visto che era netto il fuorigioco. Nel calcio se non butti la palla dentro le partite non le vinci, ma non le ripareggi neanche. Allora il problema era la difesa, oggi possiamo dire che rimane il problema della difesa, però almeno il Napoli abbiamo rivisto quel gioco sempre e solo per 45 minuti, che avevamo chiesto a inizio di trasmissione proprio oggi, che avevamo chiesto la compattezza di quel Napoli di Spalletti, che ormai non c'è più, perché ragazzi, perché Di Lorenzo sbaglia tanto, perché Anghissà sbaglia tanto, perché Zelischi sbaglia tanto, perché Rachmani sbaglia tanto, perché tutti sbagliano tanto. Il Napoli il gol l'aveva fatto, purtroppo era netto il fuorigioco, poi dopo la Juve si chiude, il Napoli non riesce a costruire, perché ragazzi, ho visto Politano sbattere dieci volte sempre su Cambiaso, lo ha fatto Di Lorenzo, ci facciamo sempre sovrastare su tutte le giocate, eppure il Napoli ha vinto i contrasti stasera, ha vinto le battaglie stasera, però poi se la palla non la butti dentro diventa difficile. La Juve nel finale non ha giocato più, si è difesa, i cambi, Orsato, in maniera scientifica, ti chiama quei due o tre falli a centrocampo, non ti dà una rimessa laterale, non ti dà un calcio d'angolo e riesce a portarla come voleva. Non è, ripeto, non è questo un attacco a Orsato che secondo me ha arbitrato bene, perché ecco finalmente quando Cajusti ha dato una spallata di quelle serie a Rabiù, come dovremmo fare tutte le volte, perché certi giocatori vanno presi poi così, perché fanno i fenomeni ma non lo sono, e Orsato per fortuna non ha chiamato fallo, perché è con la spalla. Però se non lo facciamo sempre, perché siamo così molli, poi perché aspettiamo chiesa a terra con Zanoli che non gli aveva fatto niente, noi ci fermiamo, ci guardiamo, facciamo il fair play, non mi fate essere volgari, del bip. Ma quale fair play? Loro ce l'hanno il fair play. Ma avete visto come viene ammonito Cvara? E qua ritorna Orsato. Cioè Gatti gli dà un pugno sul pallone, Cvara giustamente si arrabbia e gli butta il pallone e viene ammonito Cvara. E' il fallo di Bremer su Ozyman, che la regia di Dazzonna ha nascosto dopo aver fatto vedere mezza volta, poi ha cominciato a far vedere gli highlights, i tifosi, il pallone, fra poco faceva vedere anche la luna che non c'è in cielo. Perché? Perché devono nascondere. Perché se il VAR si accorge che quel replay si fa un paio di volte, deve chiamare Orsato e deve dire questo è rosso. Orsato scientifico, ripeto, non è colpa dell'arbitro questa sconfitta, però sono quelle cose che ti portano una squadra a decidere che deve vincerla. E così è stato. Avevo detto, e lo ribadisco, che il Presidente si deve arrabbiare anche stasera, perché questo giochino che stanno facendo tra Inter e Juve, io salgo, tu sali, tu scendi, io risalgo, poi ritorno su, non può andare a discapito del Napoli, che oggi si ritrova a 12 punti dalla Juve e domani si potrebbe trovare a 13 punti dall'Inter. Perché? Perché abbiamo visto due partite scientificamente pilotate dai nostri arbitri, ai nostri scarsi e mediocri arbitri, però è chiaro che se il Napoli non la butta dentro, gli alibi non possono esserci, soprattutto stasera, perché ripeto, Orsato è stato scientifico nel suo fare, però non l'ha decisa lui, la decide Gatti per un tiro in porta della Juve, ragazzi, un tiro in porta, perché nel primo tempo Chiesa ha fatto lo slalom, ma l'ha buttata fuori, perché McKennie era in fuorigioco quando anche Meret non riesce a uscire, neanche con i pugni, esce con le mani aperte e l'aveva pure persa quella palla. Caro Meret, anche tu ci devi far capire come stai, perché non possiamo vederti così impaurito, sembri pullescenella, spaventata, rimmaruzzo. Non ce lo puoi dare, perché la squadra lo sente. Sente la tua paura, sente la tua incertezza, esci, non esci, ti fai rivedere, ma non lo fai. E poi ragazzi, Kvara, se vuoi il contratto, se vuoi l'adeguamento, i gol li devi fare, mi dispiace dirlo, ma i gol, tu li devi fare. Chiudo con Mazzarri, scusate, il mister non mi sono piaciuti i cambi, ne riparliamo, perché non c'ho più voce, scusate, mi è piaciuto quando hai chiesto a Gesù Dio dall'alto un po' di aiuto, spero l'avrai. Scusate ragazzi, non c'ho più voce, vai Adriano, vai Cesare. Buonasera Francesco, buonasera ai nostri tre spettatori, io dico che il Napoli ha fatto un'ottima gara, secondo me ha pagato gli errori, chiaramente, come dicevi tu, due errori in attacco e in difesa, sono costati carissimi, però d'altro canto per me la Juve ha giocato anche essa una partita di altissimo livello, è stata una partita comunque, qualcuno direbbe cinica, comunque sono stati molto attenti, compatti, cattivi, hanno fatto la partita che è nelle loro corde, che è nelle loro caratteristiche, il Napoli l'ha affrontata bene, benissimo, tenendo conto che viene da un momento complicato, che giocava fuori casa in uno stadio, tra l'altro particolarmente carico, stasera, il Napoli secondo me ha fatto una grandissima gara, però ha trovato secondo me un'altrettanto grande Juventus, che nell'unica occasione che ha avuto fondamentalmente, l'ha messa dentro, ripeto, il Napoli ha sprecato, si è perso un po' a un certo punto, ma ci sta, perché viene una sorta di scoramento, evidentemente poi alla squadra, quando vedi che comunque non gira bene per fare un gol, comunque devi tirare fuori tutte le energie che hai, a differenza dello scorso anno, che quasi se sta con l'utile uno alla panchina, la palla entrava in porta, bisogna tenere botta secondo me, il Napoli comunque ha fatto un'ottima prestazione, veramente di livello, deve continuare su questa strada, perché poi pian piano i gol cominceranno ad arrivare, non sono sicuro che arriveranno con facilità, ma non dico per merito, perché vedo che gira male, ho visto troppi campionati, nei quali quando gira male dall'inizio, ti porti dietro questa difficoltà fino alla fine, quindi devi fare di necessità virtù, e cercare di tenere botta fino alla fine, e raccogliere il massimo possibile, fino all'ultima goccia di sudore, perché così è, è un campionato complicato quest'anno, e c'è da tenere duro, e da stringere i denti. Allora salutiamo anche Marco Bellinazzo, che sta seguendo anche la nostra diretta Facebook, ciao Marco, scusami, per quello ho dovuto prendere una caramella, ma perché purtroppo la tosse mi perseguita, e l'influenza, la voce è scesa su Siment, un urlo, un urlo per Osiment abbiamo fatto, no, però Meret pure, vabbè, c'è il sale, scusami, vai. Beh Francesco, il Napoli intanto, secondo me ha perso questa partita, perché di fronte comunque avevamo una squadra, diciamo la verità, quest'anno è una squadra diversa, la Juventus è una squadra che lotterà fino alla fine per lo scudetto, e io sono convinto. Però se questa è una squadra che lotta per lo scudetto, Cesare, ci possiamo stare tranquillamente anche noi, eh? Francesco, Cioè, il problema è qual è? Questi non hanno fatto un tiro in porta! Eh no, però Francesco, il problema sai qual è? Ma questa è la sua volontà. Se tu le vinci così sporche, e noi lo sappiamo che la Juventus, la sua caratteristica negli anni, soprattutto nella Juventus di Allegri, ha vinto partite così sporche, è una squadra... Ma non è la Juventus di Allegri, è la Juventus. È una squadra pericolosa sempre, e quando si trova lì, io se fossi stasera un tifoso bianco, nero-azzurro, interista, avrei molta paura di questa Juventus. Sì, perché... Molta paura di questa Juventus. Perché questi la portano a vincere. Molta paura perché tu vedi che comunque non hanno giocatori che stanno in forma, stanno ancora, vedi che Chiesa non ne incarra una, Vlaovic si è infortunato, non è una squadra... Però sta lì. E quindi noi stasera abbiamo giocato contro una squadra, forte, 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 in difesa, anche a centrocampo, però bisogna anche dire, caro Francesco, e che l'hai detto anche tu, che se tu fai quel gioco, perché se vogliamo, stasera abbiamo visto il Napoli, diciamo, di Spalletti, un bel Napoli che pressava, un Napoli che ha fatto il gioco, un Napoli che ha tenuto la palla, un Napoli che, voglio dire, ha giocato molto, molto bene, ma se tu non la butti dentro, se tu non fai gol, se Carascea davanti alla porta, sullo 0-0, si impapina, se Ossimen, altre azioni, io poi ora non le ricordo, però insomma ci sono state tante, tante possibilità, cross al centro fatti male, l'ultimo passaggio, sempre sbagliato, e io ti dico la verità, stasera non me la sento di dire, come hai detto tu giustamente, di potermela con l'arbitro, solo per un episodio, però dobbiamo dirlo, l'episodio di Gatti, a me questo è un... Ma c'è Bremer sulla testa di Ossimenio? No, no, scusami, l'episodio di Gatti su Carascea, anche Bremer lì potrebbe essere un fa... Cioè, voglio dire, è una partita arbitrata scientificamente, come hai detto tu, però ricordiamoci, loro stanno in casa, noi siamo un po' pollastri, noi non protestiamo mai, noi facciamo le signorine, noi quando la richiesta sta a terra, improvvisamente, anziché andare in contropiede, ci fermiamo, portiamo la palla indietro, è perché il Napoli è stato sempre così, perché nel Napoli purtroppo non ci sono giocatori che hanno quella cattiveria ed è la società che non è, probabilmente anche, è anche bello, perché sportivamente io preferisco essere tifoso di una squadra, voglio dire, che sia sportiva e non cattiva. Dipende, però dipende. Però se tu giochi in un ordinamento dove tutto praticamente funziona per modo di dire bene, cioè correttamente, allora tu ti dovresti adeguare. Cioè uno si dovrebbe adeguare anche a questo punto, dico caro De Laurentiis, adeguati anche tu come fanno Inter, Juventus e Milan, protesta anche tu, fai anche tu il mercato con 70 milioni di debiti, vediamo se ti iscrivono o no al campionato, perché non ci dimentichiamo che Juventus e Inter ormai sono 4-5 anni che vanno avanti con i debiti, faccio mercato con i debiti. Oggi io sentivo parlare che Inter e Juventus, nonostante il passivo di bilancio, e ci sta il nostro amico Belinazzo che ci ha scurto in questo momento, continuano a fare mercato e quindi chiaramente a fare... Se nessuno li ferma. A quel punto lì, se tu non rispetti le regole e non fai quello che devi fare, a questo punto è tutto asulo, è tutto invalidato. Il problema è un altro... Di che vogliamo parlare? Il problema è un altro che bisogna capire che quello che c'è nel calcio c'è esattamente nella società nella quale viviamo tutti i giorni e ci sono delle elite economiche, finanziarie che non possono fallire. Che non possono fallire. La fanno da padrona. E così nel calcio come nelle aziende, in qualsiasi altro tipo di aziende. Napoli purtroppo non ha industria, non ha alta finanza, non ha niente. Non ha nulla. Ha una squadra che lotta per quello che può, è riuscita... Sono fatti un miracolo. Però proprio per questo motivo tu dovresti rispettare... Però dovresti rispettare il bilancio. Se Napoli infatti lo fanno... No, Napoli lo fanno... Perché non lo fanno gli altri? Perché fanno parte di un'elite finanziaria nel quale tutto è concesso. Non è solo la Juve, non l'Inter, ma tutte le grandi squadre... Ove non ci sono altri discorsi. Voglio fare un altro inciso. Ho ripreso un po' di voce, scusatemi prima, ma purtroppo vengo dall'influenza. Allora, come al solito devo fare un altro inciso. io continuo a capire che per Dazzon questo giochino Juve e Inter va benissimo. Non c'è un telecronista napoletano, mi dispiace che anche il Pampasosa sia andato a Dazzon e si è fatto travolgere dall'entusiasmo forse. Chi lo sa si è fatto travolgere dagli altri. Allora, anche oggi a fine primo tempo non ho sentito un elogio, eppure la partita era solo 0-0. Un solo elogio per questo Napoli. E anche quando la Juve ha segnato, ha segnato con un gol, voglio dire, di un difensore, con un errore del Napoli. Ci hanno fatto vedere i replay quattro volte sul fallo anziché farci vedere il fallo di Breme. Quella è un'altra cosa. Io dico, non c'è stata una parola da parte dei telecronisti e dei commentatori a favore del Napoli che meritava il pareggio. Almeno il pareggio. La mala fede di questi personaggi, io lo capisco, però poi ha ragione forse della Aurentesi che ci dovremmo fare il canale della Lega, perché almeno lì forse si possono mettere dei telecronisti che non siano così di parte con gli abbonamenti, perché io capisco che ci sono più abbonamenti di Juve, Inter e Milan, capisco che ci sono più personaggi che devono dire... prima che ti facevo io, sempre l'elite finanziaria, nel senso fa tutto capo agli stessi gruppi finanziari, sì, ho capito, i giornali, le emittenti televisive, tutto. Però Adriano, c'è lì... Poi la Juve l'ha vinta, però a metà del primo tempo il Napoli merita il Parigio, pure in una mezza parola, ma per chi non lo dici... C'è una cosa, io sono convinto che forse è anche peggio che non ci sia nemmeno malafede in questa cosa. Cioè è proprio normale, dici tu? Cioè nella loro... Esiste un loro mondo... Che è parallelo però! Esiste un mondo minoritario, insomma, che è quello nostro. E se quella dice che hanno detto, per esempio, l'altra sera alla RAI, la domenica scorsa, hanno detto che il fallo sullo botto che non c'era. Ma no, ma figuro, ma ti ripeto, è su tutto. Io oggi vedevo, per esempio, che non c'entra con il calcio, si parlava, insomma, di problemi economici delle famiglie, no? Delle famiglie italiane, problemi che viviamo tutti, tutti i giorni, no? Perché comunque viviamo nel nostro lavoro. L'esempio qual era? L'intervista a casa di questa famiglia. Di dove erano, secondo te? Di dove erano? Di Napoli, di Scampia. Bravo, ecco qua. Cioè, ok, si può che, ma i poveri sono in ogni parte d'Italia, stanno anche a nord. Bravo. È proprio un modo di fare, di pensare che è piramidale, direi, che è così. Loro hanno questa forma mentis dovuta a un potere economico ed è così in ogni ambito della nostra società, compreso lo sport e il calcio. Per cui, anche le televisioni, sono a Milano, da zone, penso sia a Milano, come Sky, e quindi non ci arrivano probabilmente nemmeno a pensare che dall'altra parte c'è un altro tipo di audience, un altro tipo di pubblico che ha bisogno dello stesso rispetto. che adora, esatto, che adora il calcio, che vive il calcio. Va beh, allora, io direi fra poco apriamo le linee, aspettiamo se ci sono dichiarazioni, c'è qualcuno che è molto arrabbiato, dice, direttore, non ce la faccio più, assordo, ci vuole collini a porta, sarà durissima pure contro il Cagli perché ormai hanno paura, antuscat, dice, questo nostro amico, poi c'era Fabio Del Bernardo, dice, dobbiamo fare i processi, dobbiamo aprire i processi, Fabio però, al Napoli lui dice, dice, basta giustificare, ma no, allora però Fabio, mi permetto di risponderti, io lo so quanto tu cichini anche tu per il Napoli, però qua non è che stiamo difendendo, qua non stiamo difendendo nessuno, non stiamo difendendo Mazzarri, non stiamo difendendo il Napoli, perché io lo dico, non mi sono piaciuti i cambi di Mazzarri, mi è venuta meno la voce per dire che non mi è piaciuto far entrare Raspadori al posto di Politano, che sicuramente era stanco ma Raspadori da questo lato, è inutile, lo mise una volta a Spalletti e poi non l'ha fatto mai più, avrei tolto prima Quara, dici, ma Quara è luce, come dice sempre Adriano, ma l'avrei tolto prima, a un certo punto avrei messo Simeone, avrei giocato con una sorta di 4, si è acceso poco prima della sottoscrittura, è sempre triplicato, è sempre triplicato, appena avuto la possibilità è riuscito a fare un paio di scatti importanti, però c'è bisogno secondo me anche con lui di trovargli una collocazione nel campo diversa, perché lì troppo largo sulla linea, ormai viene raddoppiato, è triplicato e non ha possibilità di fare molto, per cui o arretra un pochettino in modo da avere possibilità di accentrarsi anche e quindi puntare verso il centro e cercare di fare male dal centro, ma troppo esterno secondo me ormai è diventato veramente complicato per lui giocare, perché essere marcato costantemente da tre calciatori è veramente complicato, si inceppa anche secondo me nel meccanismo della squadra, perché comunque lui prova da un lato, gli altri perdono i tempi di inserimento, di gioco, diventa tutto più complicato, quindi bisognerebbe trovare un modo di trovare un'altra collocazione nel campo, adesso ha scritto una cosa giusta di Francesco Bocchetti, ha scritto se a Quara non gli mettono due compagni che gli portano via gli uomini e soprattutto lo aiutino, lo aiutino, allora tu vedi io non riesco a capire pure Zilischi che oggi avrebbe dovuto giocare più verso Quara, a un certo punto lo vedevo sia a lui che anche a lui è stato all'altro lato e ci stava soltanto sempre Quara e Nathan da soli. Si è giocato quasi sempre da quel lato o lato. Allora il nostro Fabio Lamonea dice una cosa giusta, dire che Quara questa stagione ci sta affossando e eresia credo che si possano contare almeno 10 punti bruciati, dice lo dico da innamorato. No, è troppo. Raffaele Di Marino se la prende con il portiere perché anche sull'azione del cross lui non esce, volevo rispondere a Fabio De Bernardo un secondo poi vi ridò la parola poi fra poco apriamo le linee. Allora i processi ti ripeto noi li stiamo facendo perché ti ho detto Mazzari non mi è piaciuto nei cambi soprattutto nel cambio di Simeo scusatemi Raspadori Politano io avrei messo Raspadori dal lato di Quara avrei tolto Quara Politano l'avrei lasciato ancora un po' in campo è vero e anche lui era stanchissimo però ragazzi Politano è l'unico che in questo momento sta facendo qualcosa sta venendo meno anche Zelischi che avevamo visto bene a inizio campionato è così Zelischi ha fatto bene a cambiarlo con Elmas ma Elmas come al solito ti dà poco vi avevo detto vi avevo detto una cosa Mazzari non vede Nathan ve lo continuo a dire ve lo sto dicendo lo dovete percepire come lo percepisco io lo ha messo a sinistra perché c'ha gamba ieri lo ha detto in conferenza perché è veloce perché potrebbe addirittura un giorno diventare un terzino su quella fascia ma non lo vede nelle marcature non lo vede toglie lui per mettere Zanoli adattato da quell'altro lato allora aveva ragione Garzia aveva ragione Garzia che non lo faceva giocare tutti quanti rompevano le scatole io sono stato il primo e sono stato anche attaccato Francesco da chi ha detto che Nathan era forte quando l'abbiamo visto giocare una partita da centrale noi qua ci appelliamo alle sciocchezze scusami ma alle sciocchezze oggi se i clavara butta la palla dentro stiamo parlando di un'altra partita domenica scorsa se l'arbitro fa l'arbitro e mi dispiace qua contraddire l'amico Vincenzo Sannino perdonami Vincenzo oggi non abbiamo nulla a che vedere ma la settimana scorsa io voglio avere il rigore che è netto e voglio che sia annullato il gol di di Cialanoglu bravo bravissimo e su questo io non voglio non transigo bravo ecco perché io dico che se noi anche con l'Inter abbiamo un po' di fortuna in più non la perdono e quei poetili e quel palo che chi è andato nel palo va dentro tu gli dici ma i sei ma però purtroppo i sei ma non è anche l'anno scorso se Osimène colpiva in maniera differente probabilmente lo scudetto non lo avremmo vinto si tratta di episodi io stasera onestamente non ho visto un brutto Napoli poi non è che stiamo dicendo Napoli di spalletti ma stasera il Napoli ha messo la Juve alle corde ma per tutti i primi si è messo là fatto il pareggio allora io capisco perché ci sono dei giocatori come giustamente dice lui che non sono ancora proponibili come Anguissano abbiamo detto ci sono delle criticità nel Napoli ci sono delle criticità anche di Lorenzo mi dispiace ci sono delle criticità anche per quanto riguarda Quara Scelia che è la luce come dice il nostro Adriano è la luce non si accende però è la squadra cercare per forza un colpevole vi devo fermare che dobbiamo correre in pubblicità perché è arrivato anche Carlo Alvino così con lui facciamo il punto lui ha scritto una cosa sui social me la voglio far spiegare perché lui dice che giustamente non l'ha vinta la Juve l'ha persa il Napoli però voglio capire il perché andiamo in pubblicità e allora eccoci qua è tornato anche a trovarci in post come al solito Carlo Alvino ciao Carlo buonasera Francesco buonasera Cesare buonasera Adriano beh che dire veramente il calcio è strano questa sera ancora una volta siamo qui con la mano in bocca per commentare una partita strana dai due ai tre volti quattro volti non lo so dove il Napoli deve recitare il mea culpa mea culpa mea maxima culpa perché io l'ho scritto tu l'hai ricordato ma voglio ripetere per me non la vince la Juventus la perde il Napoli che significa non la vince la Juventus la perde il Napoli è che il Napoli deve recitare veramente il mea culpa perché non puoi non concretizzare le occasioni da gol che hai creato non puoi fallire clamorosamente un gol come lo ha fallito come lo ha fallito da Cesni il gol sarebbe stato convalidato poi dal VAR perché non era in fuorigioco lì il pallone arriva tramite un rimpallo cioè far rabbia prendere un gollo così come lo ha preso il Napoli concedendo al giocatore la Juventus di crossare in assoluta solitudine e far saltare anzi non perché non neanche saltare e appoggiare in porta di testi il pallone da Gatti la Juventus quello ha fatto ho recuperato l'XG del Napoli è 1-0-5 l'XG della Juventus è 0-65 quindi anche su qui la Juventus fa due tiri nello spettro della porta il Napoli ne fa uno sarebbe stato il secondo quello poi dove Orsato fischia il fuorigioco inesistente perché avrebbe concesso poi il gol al Napoli ma il Napoli veramente deve recitare il mia colpa poi adesso vogliamo dire Meret non è uscito Rachmane non salta tutto quello che i singoli per chi ha fatto giocare Nathan in quella posizione Nathan si vedeva arrancava molto meglio Zanolli possiamo fare 2.000 analisi perciò dico partita dai 4-5 volte resta di basso un concetto se non segni le partite non le vinci vedi vedi è un furto ma il Napoli deve segnare non l'avevo letto il titolo guarda è così se non segni ma questo è c'è poco da fare perciò la rabbia mia stasera tu chiudi sempre dicendo non si dormi io ti anticipo io non dormi non è oggi né domani finire la partita con Braga non prenderò soldi perché una partita come questa non ti può far prendere sonno perché hai giocato medio della Juve perché il primo tempo devi andare in vantaggio almeno con due gol e poi torni a casa se fossi da 0-0 mi sei rincazzato come mi sto rincazzando 0-0 figuriamoci perdendo con quelli là in questo modo e basta terribile buttatela dentro sta parola ma Raschella che è successo che sta succedendo la domanda ce la dobbiamo fare per forza ma che è succeduto questo ragazzo che è successo dopo il gollo fallito è scomparso è scomparso al secondo tempo l'ho trovato bene però è sempre triplicato ha fatto soltanto un'altra azione bisogna aiutarlo bisogna aiutarlo pure è sempre triplicato bisogna trovare un modo per tenergli qualcuno vicino o farlo accentrare in qualche modo però che così è sprecato lì troppo largo sulla linea sempre raddoppiato e triplicato non ce n'è poi se sbaglio il gollo come quello di stasera allora fra poco apriamo le linee però Carlo ti voglio fare due domande ancora una su quella che è perché poi io vorrei insieme a tutti voi analizzarle le cose cioè se era Garzia lo avremmo mangiato per i cambi però c'è Mazzarri qualcuno gli sta dando ancora un po' di credito ed è giusto che lo scidia lo deve no 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 ma voglio però ti voglio dire avresti fatto qualcosa di diverso cioè io non mi è piaciuto Raspadori al posto ipolitano avrei messo prima Raspadori dal lato di Guarab se c'è poco questo è il discorso che stavo facendo prima tutto possiamo dire al contrario di tutto ma il Napoli il primo tempo ha avuto delle limpe di occasione della golla e non le ha messe dentro se il primo tempo finisce 2 a 0 legittimamente stiamo qua a dire l'ha ingarrata tutta la formazione quanto è stato cioè tutto quello che viene a cascata dove Mazzarri ha potuto sbagliare qualche cambio dove magari l'errore del Silvio tutto quello che viene a cascata viene a cascata dopo un primo tempo dove il Napoli deve chiudere in vantaggio 2 a 0 perché Meret non è non classificabile non ha toccato Mazzarri niente quell'azione di Vlaovic che nasce su un'azione di chiesa murata a Beretanathan poi il nulla cosmico quindi di che parliamo perciò dico io è difficile analizzare adesso e dire cosa poteva fare di più Mazzarri perché le sostituzioni troppo tardi dare una mano di più in avanti a Osipen che sembra troppo tutto quello che possiamo dire lo diciamo ma di base c'è un dato incontroverso inserittibile i palloni vanno buttati in porta e quello che si è mangiato dal primo tempo fa rabbia questo è eh sì è proprio questo allora saluto i tanti amici che sono legati un po' di messaggi Vincenzo dice ma le partite durano 95 minuti solo un tempo non basta ma non mi pare che il Napoli abbia giocato un tempo io oggi chiedevo al Napoli di giocare 75 minuti per me ne ha giocato tutti e 90 e poi purtroppo è chiaro che sbatti contro il muro della Juve che è abituato a fare questo sulla questione a chissà era la seconda domanda che avrei fatto a Carlo perché continua a essere sempre solo lui il titolare non esce mai perché a chissà continua a essere sempre perché il pupillo di Garzia no e no non più adesso lo possiamo dire perché secondo me durante la settimana è quello che dà più garanzie a Walter Mazzari che rispetto a noi che non vediamo un allenamento non sappiamo la condizione fisica e mentale di questi calciatori possiamo pensare ad altro siccome l'allenatore è lì per questo ed è pagato per questo sceglie secondo quello che vede durante gli allenamenti secondo me anche se durante la settimana durante i pochi allenamenti perché poi qua si gioca in continuazione gli allenamenti da più assicurazioni o perché Mazzari si rifugge una sorta di comfort zone dove c'è un calciatore già conosciuto con quelle caratteristiche e tutto rispetto magari a un Cagliust che lui ancora non conosce bene potrebbe essere anche questo che è entrato bene che è entrato bene oggi per me è entrato molto bene però dargli la titolarità in certe partite no no ma no ma neanche io però a un certo punto Cagliusti può dare un tempo ad anglizzare questo sto dicendo io capito però la titolarità mi sembra troppo perché un ragazzo che viene da un è un pianeta completamente diverso è molto giovane non è esperienza no no ma attenzione non mi credo che neanche il nostro amico insomma neanche il nostro amico qualche minuto in più qualche minuto in più perché insomma è l'unico che tra l'altro ci mette sempre una carica agonistica sopra no no ma anche Roberto Misano non è come dice un po' Carlo non è la Juve che è forte il Napoli che è in crisi e nel pallone purtroppo può capitare non prendiamocela con Mazzari ma non ce la stiamo parliamo di calcio cioè la Juve ha comunque fatto una grande partita con quelle che sono esatto con quelle che sono le sue caratteristiche allora se oggi pensiamo certo ma certa tutela anche da parte cioè la difensione è abbastanza tutelata ma non voglio parlare dell'agito che ha fatto come suo solido 3-4 fesserie in pieno stile orsato però che si sappia perché voglio veicolare questo messaggio il calcio che pratica la Juve non ti porta a vincere oggi in Europa chi fa quel calcio non vincerà mai 30 no no non sentimi Carlo in Europa sono d'accordo con te ma io stasera chi parla in Europa in Italia se io stasera avevo detto prima fossi un tifoso nero azzurro mi preoccuperei però ma non c'è dubbio ma non c'è dubbio ma tant'è vero ma tant'è vero che molti tifosi della Juventus sui social criticano in maniera feroce criticano Allegri in maniera feroce hanno perso una per testa Juventus allora intanto il Napoli è la terza sconfitta di fila che arriva chiedevamo dai tempi di Sarri chiedevamo un filotto dai tempi di Sarri purtroppo arriva la terza sconfitta di fila vabbè insomma questo non è credo che non è un problema della terza sconfitta perché poi c'è la c'è la la Champions per lo mezzo quindi non non credo sia questo il problema il problema è che è un Napoli che non riesce a rintuzzare siamo tantissimi e vi ringrazio anche sulla nostra diretta Facebook allora direi di aprire le linee vi prego di essere brevi veloci e di dirci la vostra e di fare caso mai una domanda al parterra allora Davide appena ce l'hai mi dai Contezza non vorrei che dobbiamo ricamare Garzia scrive Leone Perrone no non ti preoccupare e beh Spalletti è andato ragazzi Spalletti purtroppo non c'è in questo momento dobbiamo tornare subito al mercato e prendere un terzino sinistro e un centrale la Juve esatto la Juve non gioca in Europa in Italia basta per vincere ma l'abbiamo detto sul mercato sul mercato che notiziai ma sul mercato ragazzi ma torno sempre su un dato no 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 ma su un dato a me molto caro quello di incominciamo a recuperare i calciatori forti che abbiamo incominciamo a rivedere Cavara con lo smalto giusto ricominciamo a rivedere Osimè che che l'anno scorso è stato devastato quelli potrebbero essere degli acquisti quelli sono gli acquisti che l'anno deve fare ma perché lo stesso di Lorenzo dell'anno scorso e allora incominciamo a recuperare a gennaio di Lorenzo Cavara Schell e Osimè poi pensiamo pure che se ce la fa il terzino sinistro ma è tornata la cantilena io mi ricordo di Embeculam mamma mia oh terzino terzino poi finalmente Mario Rue poi la ciorta la ciorta lo terzino centrale mamma mia allora da Zorn Allegri ottimo risultato messo il Napoli a meno 12 poi sullo scudetto dice più punti facciamo meglio è e poi dice velocemente vado a pescare qualche dichiarazione dove si parla del Napoli dopo che l'errore sul quasi col di Quara la squadra non si è scomposta è un segno di maturità gli scudetti si vincono con partite così gli scudetti si vincono con tutte le partite dice ancora Allegri gli sconti diretta hanno un peso come le partite quelle del venerdì bisogna avere equilibrio dobbiamo allenarci e vincere dice ancora che questa diciamo che vincere stasera è stato molto importante abbiamo messo il Napoli a meno 12 è un ottimo risultato per quanto riguarda i sogni credo noi dobbiamo continuare a lavorare va bene allora andiamo al telefono pronto buonasera ciao buonasera Peppe dalla Germania allora ciao Peppe andiamo dai zoni non ti fai il crucetto figo l'anno è normale faccio le sfoglie ogni tanto con il crucetto l'anno passato dire dire che almeno il Napoli meritava il pariggio non dico alla fine della partita ma almeno al sessantissimo quando la Juve ha segnato un gol che come dire gli abbiamo regalato perché ho visto anche delle immagini dove purtroppo non solo c'è l'errore di Rachmani e di Lorenzo ma c'è anche l'errore di Anguissa che non va a contrastare Cambiaso che crossa completamente solo e ritorniamo ad Anguissa che ho detto può non giocare mezza partita va bene andiamo avanti vai Peppe dai poi Peppe si è andato sette e mezza a Chiesa che aveva fatto una partita di sette e mezza chi? fatto un po' l'errore di Anguissa già Napoli re a Madrid voi ricerche di Lorenzo e stanno guaiare quando stiamo parlando a Nesta di Lorenzo la Saracmani e anche stanno tutto il lato destro e più come dentro tutti e quattro stanno più come lato in alto allora io l'ho detto che a Chiesa non avrà sarà alto e basso è pure un'annata storta però Mazzardi ora si è andato a scendere quello che era favore però si è andato per me perché ha fatto un sacchismo allora tu a Dio non posso fare perché non mi è andato la prima cosa tu fai e metti il gol perché ha già la sicurezza la squadra perché mi ha detto non la sicurezza la seconda partita anche sai quello che dici tu il primo tempo pangline fuori cagliusti occhi però intanto stiamo vedendo che comunque Mazzardi sta mantenendo questo equilibrio con questi giocatori ma sta sbagliando questo poi sono giocatori giocatori ma uno fedente quello è il problema ma non ciò vado a sapere e ho capito la scuola vichichi lusei e poi ah scialapopolo scialapopolo per tutto il semestre come si suol dire ma tu non c'è la mentalità per il Real Madrid e l'Inter che sono abituato a vincere lo vuoi capire è quello che ha i parole i spalletti quando lo ritorno ripeto quando tu hai vinto non abbiamo vinto niente perché questa è una partita normale volevo dire noi siamo sempre su livello e adesso è una partita normale e io ti dico che sono ancora più cazzati che hanno di partire con la Madrid e sbagli con la Napoli non è perché con la Madrid è forte un'altra ha fatto usare che sbagli con la Madrid troppi errori troppi vabbè però il Real te l'aspetti no perché il Real questa Juve onestamente io sto leggendo qualcuno che dice il Napoli ha sbagliato tanto il Napoli non ha Osimena troppo solo ma lo sappiamo ma ragazzi ma la Juve che fa c'è il palo che hanno preso era fuori gioco il palo che hanno preso era fuori gioco il primo tempo chiesa fa lo slalom gigante ma la palla finisce sul fondo non ha neanche tirato questo è l'azione di Vlaovic che salva Nathan dopo è fuori gioco di McKennie ma d'altra parte anche noi facciamo il gol però lo so ci sono parlare le trope le stesse le stesse sono una cosa però a meretti no meretti quando c'è un portiere la rio industria non è un grande portiere a 85 riesce a live della ricorda a pallinare sta partita ma quando mi faccio dire ma quando è che riesce ad andare a questa porta facciamo un tipo non non si fa e non mi sierga non mi sierga pepe grazie dai ho 50% è colpa sua perché vuole uscire e poi se ne riempi in porta infatti rimane tutto mi hanno segnalato anche questo però devo rivederla c'è più l'errore di Angissaka 3 metri da qua no 3 metri 10 metri da capogastro 50% su e 50% da qua no ma che poi la Juve è chiaro mi scrivono la Juve 9 gol in 15 partite è chiaro che è un bunker ma loro giocano su quello loro fanno il gol ma lo sappiamo che è una difesa solidissima però ragazzi gli abbiamo fatto tre tiri in porta che voglio dire che oggi se la butti dentro tre volte voglio vedere dove se ne vanno i 9 gol subiti perché è riuscita a comunque a creare palle gol nitide nitidissime sprecate contro una difesa 4 solo nella loro aria ci hanno subito i 9 gol solo qua però stasera se il Napoli segna 2 gol almeno nel primo tempo se ne va a fregare anche questa statistica questo vi voglio dire allora Carlo però molti ce lo stanno dicendo leggo anche altri colleghi che stanno dicendo che è un problema non solo vabbè l'errore imperdonabile di Chiara come abbiamo sottolineato ma il problema portieri che ne pensi? a me io sono sempre stato e lo sono uno strenuo difensore però che il ragazzo stia attraversando un periodo molto particolare non è sereno come tutta la squadra certamente come tutta la squadra però il suo è un ruolo molto delicato ed è un ruolo dove deve infondere sicurezza ai compagni non riesce a farlo da diverse partite a questa parte per me sul gol c'è un concorso di responsabilità se vogliamo provare a fare se proviamo a fare una percentuale degli errori la percentuale maggiore la do proprio a Meretta perché da quando è mondo è mondo così mi hanno insegnato chi me l'ha insegnato magari sbagliava io sbaglio appresso a lui l'aria piccola è del portiere esci fu pazza fatti fare fallo lui resta impiantato anche questa sera come se si mettesse paura no come se mette paura quindi in quell'aria piccola esci lui si mette paura di uscire a vuoto e l'uscita a vuoto diventa mortale allora c'è un'immagine che non è molto chiara che mi hanno inviato dove io non riesco a vedere qua la posizione di Meretto veramente difficile bisognerebbe vedere le immagini ma non abbiamo come dire la possibilità di farvi vedere le immagini se la riusciamo a vedere regia eccola qua è molto sgranata come dici tu sul problema dell'aria piccola il pallone nell'aria piccola lui è impiantato sulla linea manca un passo fuori dalla linea lui devi uscire anche perché qua c'è il cross qua c'è arrivato il cross qua ha già colpito Catti credo non è un cross il cross è anche un po' lento voglio dire anche telefonato il tempo per uscire per non sbagliare il tempo per uscire non è un cross dal fondo che è più pericoloso è un cross da quasi da 3 quarti proviamo a fare la responsabilità chi lo fa crossare chi lo fa crossare si sbaglia per me la maggiore responsabilità è fra Racamani e Meret e anche Dianghissà che lo fa crossare adesso se riesco a trovare questa immagine però se tu mi dici in questo momento la maggiore responsabilità io la do a Meret subito dopo la do a Racamani qui sono situazioni che si studiano cioè che l'avversario studia questa è esattamente la stessa modalità dei gol presi col Milan cross dalla stessa posizione chi li studia l'avversario sa che il portiere non esce è il punto debole sa che il Racamani non salta sia uno delle squadre che ha capito il maggior numero di gol beh questi hanno un problema ragazzi vogliamo fare un discorso un po' più ampio diciamo che è stato devastante non aver sostituito degnamente Minjai Kim brava esatto posso fare una domanda io non mi avevo fatto questa cosa sulla sostituzione del difensore no dico a me la cosa che fa specie è che il Napoli lo sapeva lo sapeva bene quindi per tempo non c'era ma soprattutto aveva anche i soldi ma non sono quelli anche quelli che sono entrati dopo quelli che sono entrati dopo vanno a coprire l'anno del bilancio del covid sicuramente il Napoli fa così i 50 milioni di Kim però se non li spendi ti rimangi di tasse ma li hai spesi perché li hai spesi fra Cajust Nathan e Osti Cajust Nathan e Lindstrom hai speso qualcosina in più dei 50 o come si è andato sui 50 quindi li hai spesi quello che tu hai recuperato di più si è andato a coprire la perdita famosa degli anni del covid mentre le altre società hanno fatto debiti su debiti su debiti il Napoli ha chiuso i bilanci rosso e è andato a ripianare i bilanci rosso con l'autofinanziamento voglio che piaccia o no questo è il Napoli è nulla che oggi diciamo eh Presidente tanto lo sappiamo no e che mi faceva specie il fatto io ti dico la verità invece di fare Cajust Lindstrom ma questo senno di poi siamo tutti professori Lindstrom Cajust e Nathan magari avrei detto rinnovate all'Ozzano dici tu mi tengo all'Ozzano lo rinnovo e mi vado a prendere un difensore già formato già formato però scusi fermetemi Carlo io quello che dicevo pure prima nel prepartita ma tu l'avresti individuato uno già formato una squadra importante veniva a giocare ce n'erano c'era Mavro Panso c'era Mavro Panso ma perché erano un giocatore già un top player perdonatemi un top player non dal Brasile che ha giocato in Europa in uno dei 5 top forse è l'unica cosa che possiamo imputare qui viene dalla Spagna viene dall'Inghilterra viene dalla Francia esatto magari potevi farlo il forzo in più per prendere Danzo per dire Danzo magari giocavano peggio di Nathan Nathan prendi loro stesso perché quelle non sono un'operazione bravo quindi lo prendi prima un telespettatore diceva farlo migliorare immaturare e guaglione un telespettatore diceva andava preso ma al posto di Juan Jesus ma non lo so io l'ho preso per mettere in rosa lo stesso però pigli un altro difensore già pronto andiamo al telefono andiamo al telefono mi prego siamo tantissimi anche sulla nostra diretta Facebook vi ringraziamo fra poco vi leggo perché ci sono tanti commenti c'è anche qualche Juventino che si sta divertendo vabbè giustamente adesso escono un po' come tutti quanti dai tombini allora pronto eh mescono dai tombini lo sai che poi figurati quanti ce ne sono allora pronto pronto? sì? pronto sono Mario da Torino ciao Mario allora io volevo volevo fare una considerazione io penso che oggi chi esce sconfitta è la Juventus e noi il Napoli perché secondo me noi siamo più contenti noi che loro perché loro hanno giocato benissimo i punti non ce li hai i punti non ce li hai eh? vabbè una consolazione la dobbiamo prendere noi perché non possiamo andare con il fegato stappolato eh vabbè la soddisfazione è proprio quella che il Napoli ha giocato bene l'unica cosa io penso che la difesa non sia tanto tranquilla proprio per il portiere Meretz che magari il ragazzo non non trasmette la giusta sicurezza e la difesa va un po' in affam va beh grazie grazie Mario grazie per il tuo intervento Francesco fammi rispondere un'accia al collega Vincenzo Sannino che ci segue sempre con affetto allora io quando mi sono un po' incavolato nell'editoriale all'inizio del prossimo partita non ce l'avevo con lui nel senso che io ho semplicemente detto perché sto leggendo il Napoli ha preso nelle due ultime partite quattro gol io chiaramente ho inserito il discorso arbitrale per quanto riguarda il Napoli-Inter è chiaro perché oggi è chiaro che parlare di Orsato solo di Orsato oggi sarebbe riduttivo allora io mi sono permesso di dire che il Napoli con la partita con l'Inter se le cose l'arbitro avesse arbitrato in una determinata maniera certo però non è che io ho detto perché siccome tutti quanti stanno dicendo che il Napoli ha subito quattro gol di che parliamo il Napoli ha subito quattro gol nelle ultime due partite io mi permettimi di dire caro Vincenzo che la partita con l'Inter è una partita fasulla Francesco fasulla quella partita con l'Inter questa di stasera no ma quella con l'Inter è fasulla allora Marelli ha specificato ad Azzon dicendo che Di Lorenzo non era in ferrogioco sarebbe stato gol proprio perché la palla gli è stata servita da prima e lo ringraziamo e lo ringraziamo ma tanto loro capite su questa cosa è stato bello ringraziare Di Lorenzo Allegri rischiato su un contropiede bravo sceso vittoria preziosa aggiunge più o meno lo stesso mi dicono che Mazzarri avrebbe detto però ancora non ho letto le dichiarazioni che il Napoli ha dominato ma è vero per me è vero vabbè però si possono perdere pure le partite dominando ragazzi purtroppo a me vanno ridere le dichiarazioni invece di Danilo che dice vittoria che ci dà morale ok gatti esempio per tutti ti l'ha detto Danilo vabbè è proprio l'esempio di Chiellini e Bonucci cioè è proprio perfetto io veramente rimango allibito se questo può essere l'esempio vabbè comunque c'è poco da dire insomma in queste in queste situazioni poi lo vedremo poi in Europa quando la Juve andrà in Europa ma loro poi alla fine ci vanno capimi loro poi è quello il discorso allora aspettiamo le parole di Mazzarri facciamo un'altra telefonata dai pronto buonasera Ciro da posti ciao Ciro ben ritrovato un saluto a tutti ben diretto la stessa partita vista con l'Inter io il primo tempo con l'Inter ho visto un Napoli che tecnicamente è stato superiore all'Inter e questo mi ha stupito molto perché l'Inter la consideravo e la considero una delle squadre più forti del cantorato contro la Juve non mi ha stupito il Napoli tecnicamente è superiore non mi ha stupito però siamo sempre lì in un punto da pallare in giro bravo l'abbiamo lì bravo si cambia totalmente la partita Quaraschella purtroppo ripeto e Quaraschella non vedremo mai Quara dell'anno scorso perché Quara quest'anno ha 3-4 tocatori e sopa spalla alla porta possibilità ad esempio Politano noi lo vediamo anche fare il bello e il cattivo tempo ma più libertà può fare l'uno contro uno Quara non è stato mai messo in tradizione la differenza è stato l'asseggiamento difensivo di Inter e Juve mentalizzate sempre attaccate all'uomo io ho visto fraterie nel Napoli anche nel primo tempo lo slalom di chiesa i giocatori del Napoli erano lontani erano distanti l'asseggiamento difensivo di Inter e di Juve si è dimostrato superiore al Napoli poi tecnicamente il Napoli la Juve l'ha uscita poi appena si è sprecolato nel secondo tempo noi non abbiamo fatto nulla una domanda per Carlo vai visto che è molto vicino alla società a me il mercato del Napoli che non è né acqua né pesce mi va bene perché tu mantieni tutta la rosa che ha tradominato il campionato quindi a me mi va benissimo ma se tu ti porti dei tassi i risolti in primis o si metti non rinnovando po' qualcuno di fotografia e tutte cose lasciamo stare ma in secondi su una trattativa approfata con gli arabi nel momento che tu trattieni perché i fielisti non vogliono andare in Arabia tu al fielisti lo devi o rinnovare oppure se il fielisti vuole fare il troppo di attrattarti di una squadra milanese o di Torino lo metti fuori rosa fielisti fino a qualche mese fa è stato il miglior giocatore del Napoli no ma fino a un paio di settimane fa poi si è fatto male non può essere questa scadenza non può essere che i fielisti che fa scadere perdonami ma perché togliamocelo questo pensiero dalla testa nel calcio di oggi perché un giocatore non può andare a scadenza l'anno che abbiamo vinto lo scudetto tutti erano a scadenza Mertensi era a scadenza Insigni era a scadenza e il Napoli non ha rinnovato e ha vinto lo scudetto con altri calciatori il Milan ha perso c'è la Nogo a scadenza Donnarumma a scadenza che sia a scadenza smettiamo di pensare una cosa che non esiste più il Napoli ha vinto lo scudetto quando ha mandato via questi calciatori non li ha mandati via non ha rinnovato il contratto non li ha rinnovati è chiaro era scadenza era scadenza ma ha detto la scadenza ma guardi io credo che Zerischi possa ancora rimanere con i balini no la scadenza finiva tutti a scadenza sono anni che rimangono a scadenza ma è finita questa storia ma scusami aspetta diretto diretto posso dire un'altra parola veloce Ciro dai se tu mi fai un mercato Nathan e Cajuste e l'abbiamo detto ma rinnovato i contratti a un voto ma se questo è il mercato del Napoli è zero perché tu non hai rinnovato i giocatori importanti ma sui rinnovi io guarda che quello di Osimene secondo me arriva arriva e l'unica cosa forse con Zelischi si doveva fare un aggiornamento diverso ma Zelischi non lo voleva rinnovare non lo voleva rinnovare perché c'ha il fatto dei 4 e mezzo lo sai ma poi non è detto che non rinnovi non è detto che non rinnovi ma nel momento che non lo vendi in a rabbia e non prendi vetta tu lo devi rinnovare come diceva Tiano ma non ci sono messi d'accordo ma scusate ma che significa tu lo devi rinnovare non ci sono messi d'accordo si fanno una contrattazione non ci sono messi d'accordo vabbè allora quanto vuoi 4 20 4 ha già rinnovato ma che funziona così la casa mia non funziona così se mi voglio accattare una casa faccio una contrattazione ma che modo di pensare è questo il mercato del Napoli è soddisfacente è nata nel Cajus no no io dico di no ma tu ci hai scontato prima cosa ho detto no lui dice che invece è soddisfacente per lui lui dice che è soddisfacente allora il Napoli ha spesso meno del Verone e della Salernitana e questo è lato discorso a me mi pare con una parte di 50 milione l'Atalante a Salernitano e l'Italio Verone vanno spesso 50 milioni è stato misteriore ma perché dovete dire fesserie perdonate che parli ma non è giusto questo l'ho già secca di l'Italio Verone ha pagato 27 milioni troppi non l'ha pagato non l'ha pagato non l'ha pagato Cito grazie dai è inutile che continuiamo questo discorso ciao ciao grazie allora ha parlato Mazzarri ci sono momenti nel calcio è difficile dare spiegazioni i ragazzi hanno dominato sul piano del gioco dominando la Juve facendola stare in aria loro per tutto il secondo tempo abbiamo perso l'uomo in aria è sprecato le occasioni giuste se giochiamo così possiamo fare un filotto di risultati importanti che meritiamo io sono arrivato da poco c'erano dei problemi prima se no non mi avrebbero chiamato ah questa è una prima accusa Mazzarri da quando sono arrivati abbiamo sempre giocato meglio degli altri è un momento negativo se non segniamo su quella palla di Quara vuol dire che non gira i ragazzi devono ritrovare la condizione e la lucidità che servono per vincere quando una squadra è abituata a vincere poi ha un contraccolpo quando non riesce ad esprimerti con tranquillità Quara è forte non dimentichiamo che non abbiamo più i terzini che spingono a sinistra che possono liberarlo siamo in emergenza e lui accusa le assenze allora ci manca quel particolare che con la grande squadra fanno la differenza anche oggi la squadra non ha preso contropiedi scusate era più corta e messa bene alcune cose bisogna migliorarle se riusciamo a fare bene con il Braga passare il turno concentrandoci poi sul campionato e recuperando i terzini possiamo fare un grande campionato se meno un campione i campioni sono trascinanti per tutte le squadre c'è bisogno però che ritrovi la condizione sarà quello che ci farà fare la differenza è chiaro che andrà via per la Coppa d'Africa e dovremo farlo con gli altri ma Osi è devastante oggi non meritiamo di perdere abbiamo ritrovato equilibrio dipende da tutto dipende tutto da noi e sono fiducioso ci sono tante partite vediamo come va che ne pensate? ha ragione Francesco in Napoli non sa se non meritava di perdere ma il dipendente è da tutto però meritare è tutto relativo a me mi fanno piacere le sue parole nel senso che il calcio è per se perso però si passa dalla prestazione è stata un'ottima prestazione e dice Mazzardi con il lavoro fondamentalmente riusciremo a raddriversare è l'unica strada un po' di fortuna in più qualche episodio a favore in più perché a fine d'ora abbiamo avuto tutti episodi a sfavore in me oggi ragazzi devi girare prima o poi il luogo a favore ma tutto molto male poi diciamo magari più fatica poi gli obiettivi quest'anno sono ancora per i ragazzi non ci dimentichiamo a parte il quarto poco quarto terzo quello che sia Coppa Italia Supercoppa Champions ragazzi ma la partita più importante del momento è martedì col Braga che sia partita da vita o morte assolutamente vita o morte il Napoli ci arriva male per chi ci arriva col morale a terra ci arriva con due confitte consecutive tre secondiamo anche quella con il Real Madrid ci arriva che sa che se questi vanno in vantaggio le gambe tremano la partita di martedì ha un coefficiente di difficoltà enorme bravo Cesare proprio per questo è diventata un problema mentale è diventata veramente una partita che io temo fortemente allora meritevamo due gol nel primo tempo dice Zelischi ad Azzon Juve cinica segna e non subisce abbiamo fatto una buona partita tenendo il possesso e cercando le occasioni siamo mancati nella finalizzazione se stasera facevamo uno o due gol nel primo tempo la partita sarebbe stata diversa con Real Carvagal Marca Vavumo Quara anche Osimeno è sempre tenuto a base dalla difesa ognuno deve fare di più se loro sono marcati e bene altri devono prendersi la responsabilità servono soluzioni alternative noi a centrocampo dobbiamo muoverci bene giocare meglio tra le linee sicuramente bisogna tirare di più il mister ce lo chiede dobbiamo lavorare più su questo poi gli chiedono cosa gli sta dando Mazzarri il mister ci chiede di riaggredire subito per creare subito occasioni senza fare corse all'indietro la differenza della Juve dell'anno scorso l'abbiamo affrontato in un momento buonissimo oggi è una squadra solida che non subisce allora ancora una telefonata poi ancora un po' di dichiarazione di dichiarazione di Mazzarri pronto pronto si chi è Rocco Pellegrino ciao Rocco Rocco dalla Calabria vai scusatemi direttore la partita l'abbiamo fatta come contro l'Inter eh si io dico di più io dico abbiamo giocato meglio come vi ho detto a inizio scusa Rocco poi ti do la parola come inizio di trasmissione in quest'oggi cioè nel pre partita io ho detto vorrei vedere un Napoli che non dura 45 minuti ma ne dura 75 cioè aumentare la freschezza le giocate la possibilità di tenere il gioco e io credo che il Napoli veramente ha tenuto più di 75 minuti oggi la partita perché con l'Inter poi a un certo punto siamo crollati con la Juve no con la Juve non crolliamo mai mai no 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 le palle e gole le abbiamo avute questa sera abbiamo avuto tre palle e gole Rocco ma ci hai preso due perché se non ricordo male hai detto prenderemo un gole sulla nostra stupidaggine vabbè dai vabbè direttore diceva la Sky abbiamo preso sette gole alla quindicesima di testa noi quindici gole l'abbiamo preso di testa tutto il campionato dell'anno scorso mamma mia mamma mia quindi voglio dire voglio dire però io alcune critiche ammazzate le devo fare le devo fare ma Zarre è inutile che mi mette l'aspadorio a destra tu i giocatori le devi seguire come caratteristiche poi l'ha tolto e l'ha messo al centro voglio dire è inutile che gli ha dato le mani dopo ha tolto Zeristi e ha messo come si dice come si dice Elmas Elmas ci ha messo Elmas poi adesso poi abbiamo cambiato Nater che era stanco che si vedeva che Nater era stanco ha messo Zanoli io ho una mia idea su Nater però e perché voglio dire non l'hai messo prima come voglio dire perché non lo metti prima voglio dire dire fuori ma perché poi l'ha provato ad attaccare no? ce l'hanno spiegato credo anche Ambrosini e Stramaccioni dicendo che Zanoli doveva spingere sì ma bisogna avere coraggio dico contro il Braga bisogna avere coraggio a cambiare gli uomini tre, quattro uomini si cambiano voglio dire o si meno lo fai riposare è l'utero che me lo tieni te lo conservi per la partita se è bisogno se è bisogno lo fai entrare la stessa cosa Zeristi la stessa cosa però abbandoni il gioco oggi se finisce Parigi hai preso un punto però a Torino che sarebbe è stata comunque in questo momento manna dal cielo cioè io ho capito che dici tu però sembrava il Napoli della buonanima di Mondorico non era questa la partita da vincere ve lo ricordate? non è il punto direttore qual è la partita che dobbiamo vincere? Rocco quella col Braga è ok ma poi ci sarà il Cagliari poi ci sarà il Frosino poi c'è la Roma appunto vi dico far ripiattare la squadra in Coppa è utile che abbiamo paura del Braga Gaiusse può giocare direttore è utile che si ha paura del Braga direttore di Lorenzo se deve andare in famiglia la squadra la ragazza il Braga direttore allora ce lo andiamo a casa e no e no e no e no e no e no 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 grazie Rocco grazie Rocco grazie 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 una piccola notizia sì vai poi vediamo questa immagine il Napoli nel calcio mercato 2023-2024 è la seconda squadra dopo il Milan che ha speso più di tutte quante perché bisogna 104 milioni il Milan 106 aspetta questi sono i conteggi con i soldi degli anni passati no 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 aspetta 104 sono i soldi sai che dovevi dare per Raspadori capito hai riscattato hai riscattato hai riscattato hai riscattato Simeone 18 milioni bravo 18 milioni sono d'accordo però questi sono ai conteggi a netto capito cioè a netto di tutto no no sono i soldi che materialmente di fuori io stavo all'anno di questo perché poi ci sono i soldi che i cassi ma tutto quanto però per dire che non la parola si no 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 poi magari non le hai vestiti beh questo è un altro discorso allora guardate qua questa è un'immagine che gira un po' sui social sui movimenti come vi dicevo guardate Cambiaso dove è e doveva uscire forse anche il Sassu quella palla ma pure che è molto è molto lontano e poi qua invece Rachmani guardate dove è Gatti prima del cross o comunque nel momento del cross guardate di Lorenzo non è neanche tutta colpa sua però anche di Lorenzo si deve guardare Gatti perché è vero che sta guardando quello dietro che adesso non vedo chi è forse è Chiesa bravo però poi Rachmani guardate Rachmani e credo Wagesus sono tutti e due lì al centro però Wagesus Ciavlaovic e Rachmani io stranamente uno che non vedo lì in aria che spesso ci sta in queste occasioni è Osimè Osimè l'ha fatto nel secondo proprio perché non c'è Osimè Gatti ma non è un calcio d'angolo non è un calcio d'angolo questo è questo no però è un calcio da fermo pure perché inizia con una punizione questo non me lo ricordo inizia con una punizione la punizione dal falo laterale però sai in quel caso però se Gatti scende no ma la devi scalare anche Kvara Schiele su quella maschera bravo anche Kvara comunque questa è una quando prendi gol c'è un errore è chiaro in fortuna quindi questa è vuol dire Kvara tiene McKennie largo rimettila scusami Davide rimettila un attimo allora Kvara ha McKennie che è alto che lo tiene largo Kavias praticamente solo sulla prima marcatura c'è Zelischi sul 25 che non so chi sia forse era Biot e c'è Anghissà sì c'è Anghissà che corre vedete perché è il ritardo e quindi si sta provando sta provando a fare schermo ma non ci riesce queste qua sono tutte le preventive però io sto parlando sto dicendo se Gatti scende a quel punto lì spesso e volentieri ricordiamo però non è un calcio da fermo non è un calcio da penne però ricordiamo è un'azione di gioco allora diciamo allora diciamo che sono bravi pure loro no bravi loro i Rachmani che non ce lo pegano perché Gatti non è la prima volta che si si no Gatti è come Chiellini è come Bonucci è uno di inserimenti è uno di inserimenti se prendi il tempo hai difensori comunque pare che tutto sport abbia fatto addirittura un titolo Juve Miao mamma mia sì è proprio la Juve l'ha fatto la Juve l'ha fatto la Juve social è tutto sport la ripresa Miao che vuol dire perché Gatti Miao Gatti giusto e lo spegne queste sono veramente questo è il livello del il livello esatto il livello della Juve il livello del mamma mia veramente osceno ma ragazzi intanto purtroppo Carlo noi dobbiamo dirlo stiamo facendo godere di nuovo tutta l'Italia quello è quello che a me fa proprio in maniera fortissima ho tutta una serie di commenti di romanisti entusiasti bravi romanisti che stanno cioè domani la Roma Roma-Fiorentina Roma-Fiorentina non lo sperano di superarci così Milan ha la partita con l'Atalanta vediamo come va però intanto l'Inter c'ha l'Udinese credo che domani l'Inter vinca poi se l'Inter si suscita anche Roma e Fiorentina no Roma e Fiorentina fanno un pareggio comunque sì perché poi pure se la Fiorentina dovesse vincere ci scavalca lo stesso quindi un pareggino sperando che anche l'Atalanta alla fine pareggio un brodino un brodino bravo allora andiamo ancora al telefono dai lo so che siete tanti anche con i messaggi fra poco vi leggo pronto buonasera sono Umberto ciao Umberto buonasera a te sono intossicato ti avevo intossicato la vittoria prima nel preparare no ma che non dico meritavamo la vittoria forse è troppo è troppo grande come situazione ma almeno un pari nel primo tempo il Napoli meritava di stare in vantaggio sì poi il secondo tempo io lo vedo un po' diversamente da voi allora per me il gol è colpa di Racamani è sempre il solito gol che Racamani perde l'uomo non è la prima volta che se lo sta perdendo è infatti il suo Di Lorenzo Di Lorenzo sta coprendo su Chiesa e quello davanti a Racamani sta coprendo su quello che attacca il primo palo Guageso su Vlauvi punto tra l'altro non do manco le colpe a Meret perché se vedi Meret va verso normalmente va verso destra come movimento e viene preso in controtempo stavolta troppo facile infatti io l'ho detto troppo facile assolutamente assolutamente anche perché l'immagine di fronte la palla arriva a tre metri da Meret quindi non può fare proprio niente non può neanche uscire perché comunque su quella palla la rischia di andare fuori tempo e di uscire a vuoto quindi la colpa è di Racamani punto e si perde l'uomo poi il secondo tempo che vedo io in Napoli un'ora di gioco e poi è finita là io passo a te tu passi a me io allargo su Di Lorenzo Di Lorenzo torna indietro cioè alla fine l'ultima mezz'ora è vero che quelle hanno fatto la barricata però non hanno fatto un utile in borsa cioè solo il gol ma a un certo punto c'erano cinque difensori ma non l'abbiamo tirato mai però Adrià neanche da fuori non abbiamo provato con dei cross in realtà nemmeno prima la cosa più inutile che esisteva con cinque difensori a buttare quelle palle in mezzo non capisco sinceramente e poi non comprendo neanche la sostituzione di Guaraschelia che per me era l'unico che superando l'uomo ti dava la superiorità a quel punto devi avere il coraggio di mettere prima Zanoli che provi a tirarti via all'uomo e in qualche modo la leggeria e la pressione su Guaraschelia ma Guaraschelia non lo devi mai levare era l'unico che saltava all'uomo da quell'anno soprattutto poco prima della sostituzione ne aveva fatte un paio buone di incursi ero duri cioè dovevamo dovevamo segnare lo so o metti Simeone allora a quel punto a poco cambio perché alla fine di davanti non arrivavano e se metti cross devi mettere Simeone subito se metti cross o metti Simeone subito allora non mettere Raspadori cioè è caso che poi si naturi tutto continuiamo a dirlo Raspadori non serve a niente su quel lato su quel lato io lo vedo inutile io lo vedo inutile ragazzi ti vedete quali il problema secondo me che ci sono punti alternative nei campi delle sostituzioni fatte proprio così a casa cioè giusto per fare entrare chi deve entrare non perché poi avrei fatto entrare l'info tanto sulla fascia per entrare l'info deve entrare Simeone ma deve entrare per 20 minuti Simeone non per 5 minuti e se comunque vuoi continuare a giocare in un certo modo allora leva il fertino tra l'altro avrebbe dovuto levare Juan Jesus su San Monito e se ne è Renata ma ve l'ho detto lo sto dicendo non mi fate dire una cosa che non vuole essere cattiva controllata ve lo sto dicendo voi la volete girare la volete rigirare Francesco però purtroppo quest'anno il Napoli caro Umberto caro Umberto non gli va bene niente l'anno scorso lo Simeone tirava dei tiri allucinanti che nemmeno noi ci credevamo che andava in porta e segnala quest'anno di Carascele davanti alla porta non segna di Lorenzo non segniamo di Palio Parate Purtiere Miracoli ragazzi purtroppo noi non ci dobbiamo dobbiamo rendere conto che quest'anno è un'annata disgraziata però aspetta che vediamo che succede no ma io sto dicendo il campionato no il campionato è chiaro ma no il Napoli è in corsa pienamente pienamente per dare il guarda scusami Umberto allora no no ho finito nel senso che purtroppo il Napoli gioca per me 60-65 minuti se non va in vantaggio alla fine rischia di perdere le partite per co-goal o viglioselle quest'anno lo prendiamo quest'anno lo prendiamo sempre questo si vi abbraccio grazie Umberto allora ragazzi vi invito a scusate la mia voce la mia tosse ma purtroppo è così però vi invito a riflettere su quello che dice Mazzarri ci gira male paghiamo sul primo errore però dice una cosa interessante la prima volta che lo dice dopo aver elogiato il lavoro di Garcia se andava tutto bene non mi chiamavano no 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 però vi voglio dare un dato no aspetta ho capito che c'è una cosa sta dicendo che c'era qualcosa che non funzionava ci sono dei problemi da risolvere prima che le cose iniziano ci sono di arrivare a questo è chiaro è evidente bisogna dice l'Ariventus sta nel bunker 80 minuti non concede una palla di testa bisogna allenarla questa cosa ma non ho avuto tanto tempo ecco purtroppo abbiamo fatto un errore lo paghiamo è un momento in cui ci gira tutto male abbiamo fatto 7 tiri in porta per sbloccare con la Juve bisogna anche tirare da fuori aria ma non ne abbiamo fatto uno buono martedì dobbiamo fare una grande gara poi ci concentreremo per migliorare questi aspetti del secondo tempo gli chiedono se siete spariti nel secondo tempo questa è una domanda cattiva per me perché non provocazione ho visto la mia squadra che ha schiacciato la Juve loro in contropiede sono pericolosissime noi non ne abbiamo preso ha attentato il tutto per tutto con 4 attaccanti non abbiamo preso una ripartenza loro sono chiusi bisogna tirare da fuori e si sono prese le stelle Ciaralogo settimana scorsa ha fatto gol non ho visto grandi occasioni della Juve anche nel secondo tempo ha poco da dire sulla mia squadra ma di Napoli non ha rischiato granché ma per certo questo è cattivo non so chi l'ha fatta questa domanda ma è cattiva è stato sempre manca serenità sono arrivato da poco è chiaro che qualche momento così può arrivare qualche volta è successo anche l'anno scorso ma avevano un vantaggio incredibile una piazza come Napoli si aspetta una partenza uguale all'anno scorso è chiaro che se andava tutto bene non mi chiamavano bisogna trovare il modo di risolvere il prima possibile mi date il punto in cui secondo te Mazzarri va a colpire per me è sulla questione fisica io sono d'accordo con te Adriano? probabilmente sì probabilmente sì però potrebbe anche essere che non si riferisce strettamente al mister ma al problema generale insomma anche probabilmente al fatto che Spalletti ha lasciato perché sapeva che probabilmente questi ragazzi avevano sicuramente sicuramente meglio però è un fatto di tenuta di costanza della tenuta agonistica io credo che passerà ancora qualche settimana però diciamo che più partite si giocano io meglio li vedo sì sì io sono d'accordo tutti sul quadro lato sì sì anche se purtroppo quest'anno non ci sta neanche questa Benedetta Sosta che è stata sempre ogni anno no ci fermiamo ma le nazionali ragazzi la nazionale la nazionale Franci io sono andato a giocare io sto parlando quella di Natale allora noi come dire la nostra squadra della nostra relazione è sempre fortissima il nostro Diego ha andato a beccare un'altra foto del gol della Juventus però io non me la sento di accusare solo Meret perché ragazzi è un cioè Gatti praticamente cambiasse gliela mette in testa Gatti deve solo buttarla dentro quanti cose abbiamo fatto addirittura il Moviolone te lo ricordi il Moviolone poi non siamo nemmeno anni 80 così non siamo nemmeno sicuri che aria piccola è qua infatti la foto prima vuoi mettere la foto prima questo è il Moviolone che abbiamo fatto questo è tipo Moviolone te lo ricordi il Moviolone allora fai vedere la foto prima Davide scusami c'è la foto prima di questa immagine questa immagine del colpo di testa di Rachmani ce la dovresti avere credo di sì eccola qua no 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 eccola qua fermati fermati qua qua non abbiamo l'immagine precisa dall'alto però qua guardate però qua Gatti ha già staccato già staccato da tempo Rachmani è sotto di lui guardate e Meret è sulla linea come dice Carlo 10 centimetri sì sì no ma ragazzi guardate Gatti dove va però Meret la guarda ma ormai il pallone è già partito è troppo facile da questa posizione non ci arriverai mai non ci arriva mai allora o esce molto prima molto molto prima però qua non la prende mai ma neanche sul colpo di testa cioè ripetiamo il Moviolone che il nostro Diego ha creato non lo so forse l'intelligenza artificiale ormai fa ste cose io ormai ho perso la cognizione eccolo qua qua si vede insomma se Meret era sulla stessa posizione del tiro però ragazzi io non credo no allora sul fatto che potesse uscire sono d'accordo con Buc ma pararla è impossibile ma sul fatto che lui prende la palla la parata la prende non la prende manca ciascina manca zoppa la piglia che la palla la quindi non scherziamo i colori sono obbligati ho detto due novi ho detto due novi e qua invece erano viola quanti anni ho no no però vabbè non la può parare mai il discorso è che se esce molto prima però ragazzi è colpa di racconta se fosse uscito probabilmente c'è da vedere però io ho detto che Meret mi sono anche espresso in maniera un po' colorita in questo momento ma paro Polucionel spaventata e Maruz però non in questo caso non in questo caso perché non dà sicurezza questo sì l'abbiamo visto a un certo punto la palla che gli è arrivata e lui ha tremato prima di prenderla che era facilissima per me quei cross lì tu dici devi accorciare non devi far crossare ma quei cross partono a meno che non lo prendi in pieno il difensore il cross parte sempre poi ti vuoi riuscire alto ti vuoi riuscire lento molto tagliato poi tende a rientrare lui ha fatto un ottimo cross il problema è che Rachmani comunque non è saltato puoi anche saltare non ci arrivi ma di fatto non è saltato ti resti piantato ed è una caratteristica si diceva contro il Milan no perché l'ha fatto giocare che era infortunato no non salta a me sembra appesantito è un arm bravo sembra appesantito i movimenti però Carlo tu dicevi prima se il mercato questo non la prendi però il Napoli secondo me al di là del terzino deve agire sul mercato ma il Napoli io non lo so ti dico la verità bisognerà vedere innanzitutto i suggerimenti di Mazzarri perché poi è giusto che la società si affidi anche al tecnico per fare le valdozze poi c'è da capire Mazzarri è un aziendalista tu lo sai ma qua si tratta di fare il bene del Napoli e poi ci sono in ballo milioni e milioni di euro quindi se c'è bisogno io non so se c'è bisogno di qualcosa dico la verità perché la cosa del Napoli è fortissima cioè se tu mi dici cosa ci vuole diciamo ma un difensore ma se recuperiamo Olivera e Mariuri a che serve no parlo del centrale ma un centrale ma chi ci sta allora oggi Klopp Matip si è infortunato gli hanno fatto una domanda a Klopp verrà sostituito Matip lo sapete Klopp cioè Liverpool ma secondo voi c'è un difensore centrale forte ce l'ha dovuta a noi di Liverpool un Liverpool allora ci rappresentiamo il nuovo Napoli ma dove stanno questi difensori forti ma a gennaio chi te lo dà ma il Napoli non ha speso un'estate spese è a centrocampo no se va via allora la puoi prendere in considerazione un'ipotesi si stava uscito sicuramente si ma ragazzi con Gattuso è la titolare inamovibile parlo di Diem l'abbiamo detto all'inizio puntata cutrefatta mi ha detto la buonanima di Gennaro Ramboni che può fare se ne va si sostituisce però si sostituisce quello che deve giocare quello che diventa un ricambio perché ad oggi tu c'è un giocatore in rosa ma non ce l'hai perché Demme a tutti gli effetti bravo è fuori rosso quasi fuori rosso perché non si è voluto decurtare parlando di grande credo allora ce l'abbiamo un giocatore in più solo che non viene utilizzato perché magari è rotta con la società ma la domanda è questa è in rotta con la società io penso di sì no voglio dire se Mazzarri riuscisse a recuperarlo dal punto che poi se vogliamo Demme è un giocatore che nel gioco di Mazzarri potrebbe andare potrebbe piacere allora si deve dire a sto ragazzo ma che vuoi fare se no se c'è già una società allora a Gennaro è meglio che va via la però sostituisce ma io non credo che l'ingaggio è alto l'ingaggio è altissimo non se ne va 4 e mezzo allora lo devi far giocare 3 e mezzo 3 e mezzo allora scusate utilizziamolo utilizziamolo bravo allora chiedo alla regia facciamo un'ultima telefonata poi andiamo verso la chiusura di questo appuntamento fammi salutare Antonio Mariniello Antonio un bacione dottore Mariniello da Cerra sono veramente tantissimi amici che sono ancora in diretta a quest'ora abbiamo veramente un numero altissimo e vi ringraziamo è chiaro anche che molti sono arrabbiati ma lo siamo anche noi non è che non siamo arrabbiati poi possiamo decidere se ha sbagliato questo o sbagliato quell'altro però siamo anche noi molto arrabbiati allora pronto pronto si chi è Sergio ciao Sergio buonasera a te buonasera a tutti e quattro voi ciao Sergio come la pensi allora io sono d'accordo pienamente con quanto ha detto Carlo Albino che la partita non l'ha vinta tanto la vecchia signora ma l'abbiamo persa noi il Napoli noi per quanto riguarda il discorso del comprare comprare non credo che sia una cosa da prendere sotto campo bisogna vedere sentire l'allenatore che cosa propone anche perché Carlo ha detto giustamente ma chi ha un giocatore forte ce lo dà il Napoli oltre al fatto che il giocatore forte vuole i soldi e qua di soldi da cacciare sappiamo bene ce ne sono pochi quindi dobbiamo tener conto di tutto questo bairam che poi sono d'accordo con la dichiarazione di Mazzarri Mazzarri ha detto tra tutti il napoletano e voi l'avevi trovato voi ma l'avevi trovato trovando a me e ha ragione ha ragione però lui si è messo di buzzo buono e piano piano se ci diamo il tempo vedremo che la squadra migliorerà il gioco devono prendere fiducia i giocatori perché io penso che è un fatto proprio di rilassamento mentale non sono convinti di portare la vittoria a casa anche quando stanno in vantaggio danno sempre quel timore di dire il luogo ma pigliamo il culo ma la legge ma e così è quindi bisogna dare un po' di tempo sia ai giocatori che all'allenatore noi siamo un popolo dove bisogna come si dice a Napolo senza fare abbiamo vinto l'anno scorso ma che ci crederanno che ogni anno potremmo prendere lo scudetto poi giustamente qualcuno ha detto ci stanno altri tre laguardi da raggiungere la Coppa Italia che sono fondamentali e poi diamo il tempo al tempo perché ci vuole il tempo per organizzare una squadra come se dice a Napolo non sa buffo va bene grazie Sergio grazie per il tuo intervento forza Napoli allora grazie grazie allora è chiaro che adesso bisogna guardare alla partita con il Braga ci prendiamo un fine settimana di riposo tra virgolette ritorneremo lunedì con la programmazione vi ricordo che lunedì c'è anche la conferenza alle 15 quindi vi daremo un po' tutto in queste prossime ore la conferenza di Mazzarri in Champions poi avremo la possibilità di di seguire come al solito pre partita post partita la sfida con il Braga poi torneremo sabato insomma non ci fermiamo fino a Natale ma non ci fermeremo quasi mai in tutto il periodo solo qualche giorno durante le feste quindi non vi preoccupate che le Brappoli c'è c'è Dillo Adalvino con Carlo Alvino ci saranno i pre partiti post partita c'è ancora Goldinotte l'ultimo appuntamento Champions del Girone con Michele Plastico quindi sarà una settimana questa molto importante perché il Napoli deve passare il turno il Napoli poi deve secondo me a questo punto fare risultato di nuovo al San Paolo Maradona forse non so se dovevo cominciarlo a chiamare San Paolo Maradona può essere ritorniamo un po' a parlare di quel vecchio stadio che ci portava molto molto bene allora gran finale parto da Adriano poi Cesare poi chiudiamo con Carlo che cosa da cosa vogliamo ripartire bisogna ripartire la prestazione Napoli ha fatto un'ottima prestazione di livello è aumentata la costanza insomma del rendimento dei singoli calciatori all'interno della gara non arrivavano per ultimi sulla palla anzi questa volta si arrivava a primi quindi bisogna partire dalla prestazione secondo me si è cresciuti ancora un po' anche se il risultato comunque è bugiardo poteva esserci un 1-0 per il Napoli un 1-0 per la Juventus però insomma sarebbe come dire penso sarebbe stato più giusto la vittoria per il Napoli però il calcio è questo e quindi la Juve ha capitalizzato l'unica opportunità che ha avuto assolutamente Cesare Francesco io molto molto rammaricato stasera perché abbiamo perso una partita che francamente non meritavamo di perdere perso in mavo modo con una grande prestazione secondo me il Napoli ha fatto una grande prestazione al di là del fatto che non è facile non è facile giocare contro una squadra che ho visto a un certo punto sui calci da film 6-7-8 giocatori della Juve 4 del Napoli non hanno neanche provato il controllo veramente assolutamente non hanno neanche provato ma quella è la cosa che mi fa sperare molto perché il passo avanti è proprio quello noi abbiamo pressato abbiamo pressato abbiamo attaccato ma non abbiamo concesso a una squadra come la Juve che è maestra con Chiesa con Kostic con giocatori come Blauic all'inizio e dopo Milik non abbiamo concesso altre azioni da gollo perché in altre occasioni la Juve sarebbe stata della Stato e lì e quella è una cosa e poi non ci dimentichiamo la partita importantissima come diceva Carlo prima fondamentale che noi avremo il martedì il martedì sarà veramente quello lì il croceria della stagione del Napoli non si ha mai perdere però Carlo prima di fare una cosa tua ti faccio proprio questa domanda ormai i punti sono veramente tanti perché 12 potrebbero essere 13 domani bisogna accantonare qualsiasi pensiero anche se oggi Mazzara risponde lo scudetto è ancora possibile bisogna accantonarlo perché altrimenti corriamo il rischio di farci ridere dietro dal resto d'Italia e dalla stragrande maggioranza dei depositi del Napoli se parliamo di scudetto devono chiamare il 118 tutti i 100 che esistono 112 e poi chiamassero tutti quanti e ci andiamo quindi credo che sia giusto ribadire che l'obiettivo adesso è quello di restare nelle prime quattro posizioni e già questo diventa un obiettivo da rincorrere perché non è più apportativo per una squadra convalescente come il Napoli con un cambio di allenatore che si era ormai palesato in maniera evidente viste le tragedie precedenti il calendario non è stato amico bisogna dire il Napoli siamo tutti delusi amareggiati perché alla fine pur portando a casa due ottime prestazioni giocando contro l'Inter la Juventus la prima e la seconda le squadre più in forma del campionato porti a casa solo la buona prestazione non porti a casa la vittoria neanche un pareggio quindi non porti a casa risultati positivi avesse fatto il Napoli queste due prestazioni contro due squadre di media bassa classifica saremmo qua tutti quanti a dire è iniziata la rincorsa purtroppo il calendario è stato impietoso il Napoli porta a casa solo queste sconfitte però i segnali sono molto incoraggianti la stagione si decide in primavera il Napoli da questo momento in poche chiacchie e tanto lavoro poi in primavera si tirano le somme per capire la Champions per capire la classifica della Serie A per capire la Supercoppa che non si capisce se si gioca quando si gioca se si gioca in Italia questa è una cosa ridicola e anche il cammino della Coppa Italia visto che il Napoli giocò col Frosino tra non molto fra due settimane e quindi direi invece di di così votarsi al pessimismo cosmico votiamoci al realismo di una squadra in convalescenza che però dei segnali di grande vitalità li ha dati anche questa sera eh sì e allora chiudiamo con l'amarezza però chiudiamo con la speranza in questo Napoli visto stasera possa darci soddisfazioni perché è questo che adesso ha bisogno il tifoso del Napoli un po' di soddisfazioni in campionato un po' di soddisfazioni speriamo in altre competizioni Champions Coppa Italia Supercoppa poi ne riparleremo non si torme ci prendiamo questo weekend di riposo ma non si torme e non si dormirà fino forse alla partita col Braga come diceva prima Carlo proprio perché abbiamo bisogno poi di dimenticare queste situazioni e soprattutto ripeto io quando il titolo è un furto è un furto sportivo perché in questo caso non c'è stato veramente nulla da parte della Juve è un furto sportivo ma lo diciamo in primis noi che il Napoli deve segnare perché senza i gol non si va avanti non si vincono le partite ma non si pariggiano neanche grazie a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento è lunedì con Club Napoli alle 15.30 anche se credo inizieremo alle 3 con la conferenza stampa quindi ce la porteremo un po' avanti la faremo vedere due volte poi entreremo noi e poi condillo ad Alvino dalle 18.15 come di consueto allora grazie a Davide Regia che anche stasera ha fatto gli straordinari grazie a Cesare ciao Francesco grazie ad Adriano grazie a te Francesco grazie a Carlo Alvino ciao a tutti appuntamento alla prossima settimana buona immacolata ormai è passata buon weekend forza Napoli e ciao